salve a tutti e bentornati su magic stage il palco magico io sono olessio di blasio e su questo video che è il nono parliamo di come effettua la regia e il montaggio delle poesie animate dei piccoli episodi che sto preparando e che inserirò poi nel canale quindi andiamo subito a delle slide come al solito vi spiego un po il programma che uso e come lo uso allora partendo dal discorso fatto precedentemente con il video dello storyboard se è presente uno storyboard ovviamente si va a prendere in considerazione quelle che sono le indicazioni fornite dallo storyboard fatto in precedenza e si lavora sul programma di montaggio che come dalla slide che ho messo io utilizzo una vecchia versione di After Effects per fare le poesie animate e gli episodi che sto preparando del topo e del riccio nella discarica insomma come vi ho spiegato nei precedenti video diciamo vado a soprapporre i file principalmente per i personaggi uso le png anzi quasi esclusivamente le png e per i fondi uso le jpeg lavoro a singolo frame vado così a fare insomma i movimenti dei personaggi sul sul filmato da montare spiegando un po il programma come come è strutturato diciamo c'è un area caricamento file che vi vado a segnare in rosso in maniera tale che la individuate dove qui si vanno a caricare tutti quanti i disegni e gli scenari che sono stati fatti in precedenza poi nell'area appena sotto che segno sempre il rosso c'è il posto per inserire cioè iniziare a lavorare sulle sulle immagini e sugli oggetti che comunque da anche After Effects direttamente a livello interno tipo la possibilità di inserire del testo che io per esempio ho utilizzato per fare i titoli di coda e i titoli iniziali o comunque magari delle maschere che possono essere in alcuni casi utilissime quindi comunque questa qui è l'area dove si gestiscono un po tutti quanti i valori delle immagini caricate poi segnandola sempre rosso c'è la timeline dove si lavora sul singolo frame a livello temporale e quindi qua si va piano piano a costruire tramite insomma l'audio registrato precedentemente che comunque deve essere caricato in maniera tale che dà la linea temporale un po tutta la storia sul parlato poi c'è l'area degli effetti degli effetti che possono essere inseriti sul filmato a livello di colore a livello di regolazioni e qui si in questo punto quasi si vanno a scrivere comunque cioè si vanno a calibrare un po anche le caratteristiche dei testi che comunque magari possono essere inseriti poi nell'area successiva c'è il monitor dei livelli di uscita dell'audio che comunque molto importante perché così uno capisce se magari l'audio spara oppure va abbassato oppure viceversa e quindi comunque insomma importante avere questo questo tipo di monitor e poi c'è l'area anteprima del filmato cioè dove praticamente viene visionato costantemente un po il risultato di quello che è la lavorazione ve lo vedete in questa anteprima me lo vedo insomma poi se lo usate anche voi ben venga insomma nel senso sono contento però io ecco io lo uso e mi ci trovo bene e questo è quanto insomma questo è il tutto insomma nel prossimo video invece andremo a vedere quello che sono gli effetti sonori della musica se esistenti sul filmato come li faccio che tipo di strumentazione mi sono mi sono fatto per fare per provare a fare insomma musiche effetti sonori come quelli che che accompagnano all'inizio e alla fine le poesie animate che che ad esempio ho già inserito insomma ci vediamo sul prossimo filmato vi ringrazio per la cortese attenzione e arrivederci